Dopo 2.40, Marzierli colpisce sul primo palo, Marzierli torna al gol, quinto gol in campionato per Marzierli. Bella azione che si è sviluppata a sinistra da parte del Sandonato, la grande gioia con Russo, con tutti i compagni, la deviazione sottoporta di Marzierli, uno dei grandi protagonisti con tantissimi gol nel passato campionato che hanno permesso al Sandonato di vincere il campionato di Seguedi quest'anno.